Chisinau piace tanto, piace girarla, lo girata e sinceramente mi piace, io mi si trovo bene. La gente mi ha trovata molto cambiata, molto cambiata in tutti i sensi. Poi lavorare in un bar, come lavoro io, è molto importante sorridere, quindi anche lì c'è stato un grosso cambiamento, per me importantissimo, riuscire a comunicare con le persone in modo tranquillo. E poi in effetti è vero, quando veni all'inizio mi dicevano ci fai vedere il tuo Ferrarino. Avere un bel sorriso ti dà anche più sicurezza in te stesso. Ebbè adesso è anche lì più sicura di sé, quando ride, ride con la bocca aperta. Mi piace tutto, mi piace il verde, ho visto musei, ho visto chiese, ho visto molta povertà, ma ho visto anche molto benessere, quindi la via di mezzo stavo iniziando a vederla ora. Poi mi piace l'aria, esco la notte e esco tranquilla.